manca sempre meno all'apertura del nuovo portale un portale positivo energico con vibrazioni elevate e voi avete acceso le candele la domenica ma anche durante i giorni della settimana quindi tra oggi domani vi consiglio di accendere candele di luce positiva candele bianche tre candele bianche e oltre a questo dovreste bruciare della salvia perché questo va a ripulire la nostra aura sapete che l'aura è la vibrazione alla quale ogni corpo ogni organismo riesce a produrre quell'energia quell'elettricità che lo mantiene in vita e ognuno di noi ha un'aura di un colore particolare che varia in seconda dello stato d'animo delle varie anche difficoltà che ci sono nella vita e voi sapete benissimo che come ho già detto più volte nei video sulla legge di attrazione attraiamo ciò che siamo siamo ciò che attraiamo quindi positività deve già entrare a far parte del nostro vocabolario mi raccomando soprattutto per lo scorpione perché lo scorpione in questo periodo è affranto e deluso è proprio sperso lo scorpione non vede più la luce e come una chimera deve rialzarsi perché lo scorpione è sì un segno passionale forte determinato ma anche fragile debole e si spezza come niente il segno che in questo momento ha più forza è il segno dei gemelli perché ci prepariamo all'era dell'aria quindi ci prepariamo all'era dell'acquario dei gemelli ma anche ovviamente del segno della bilancia alla bilancia avrà un tripudio di gioia ma non solo la bilancia chi ha maggiori pianeti principali in bilancia godrà di benefici inaspettati ma soprattutto sapete chi è chi avrà la meglio quest'anno il segno del capricorno è il 2023 l'anno per eccellenza l'anno cardine del segno del capricorno un segno che dopo essersi fatto le ossa e io ne so qualcosa perché sono ascendente capricorno ha finalmente tutto quello che gli spetta si riprende la dignità si riprende il rispetto si riprende l'onore orgoglio la felicità tutto quello che c'è di bello il capricorno lo prende